riscatori sì 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 dopo vediamo fa il video cioè questi qui guardate cosa hanno preso fatti domande no metto qua se non mi si bagna il telefono l'hai presa? l'hai presa? no lascia la vita per favore l'hai presa vedo io spero l'abbia ripresa sì sì ti posto il video su youtube cacchi tu si è fatta male vieni qua dai per favore la sali io direi che fai prima guarda a questo punto tu fa prima da nuoto più ai pesci il bicchiere penso che il bayliss non lo bevono comunque qualcuno ha preso qualcuno non vuoi non vuoi no non vuoi dai non demordere guarda come si dice rusta si dice è piaciuto il sole però no no la botta no non è la botta si si è la botta che ha preso no e non molla eh ma ne manca tenta eh c'è un po' una panoramica qua ma te cattivo guarda come si vede bene con questo qua vai con l'altro non si vede così io mi ricordo l'altro non era così come sta la schiena no lui è un'altra no no è russo si ti si è fatta male? no no oh ha una macchia così rossa dietro sono un incisi in giro che fai da lò ma sai ieri che ti stai andando a fanno a mio avviso è troppo in piedi quella canna comunque vabbè magari sbaglio mettici una banana lì dentro ancora un po' tienila in verticale così vedi che oh ma sai che ti costa un video su youtube eh no non lo metto sai che dolce fatti da me non limonate eh fatti non lo metto per quello scusami essere ne approfittato perchè non voglio bagnare il telefono io sto qua a fare video fino a che tu pegli il pesce quindi a mezzanotte sono ancora qui la fiore è benissima per me eh sì quattro minuti cinque non fermi non fermi non fermi Grazie.